buongiorno a tutti e benvenuti allo psicologo di un vita oggi abbiamo qui con noi popo trincia popo trincia è giornalista che avete visto sicuramente in diversi programmi televisivi come le iene ha lavorato anche per diverse testate giornalistiche per esempio per le diverse testate giornalistiche altri altri programmi televisivi come servizio pubblico hanno uno chi l'ha visto e adesso sei responsabile creativo di cora media hai fatto diversi podcast tra cui veleno che è quello di cui parleremo oggi grazie di aver accettato davvero grazie a te grazie a te dell'invito matteo volevo chiederti proprio perché oggi parliamo di veleno per cui è un punto che è molto importante che per te ma anche per tutti quelli che l'ho ascoltato che ho avuto come ascoltarlo anch'io e volevo chiederti se per favore ci puoi un po parlare un po di questa storia quindi di veleno un po come iniziata per poi per descriverci un po la vicenda i punti principali allora è la storia di 16 bambini che sono stati allontanati dalle loro famiglie tra il 97 e il 98 in due paesini dell'emilia romagna che sono massa finalese e mirandola ed è la storia di questo grande allontanamento collettivo nel quale entra un po la storia del una sorta di paura da parte di assistenti sociali e degli inquirenti e degli psicologi che questi bambini siano stati vittime di abusi abusi domestici da parte dei loro familiari e abusi satanici rituali sempre da parte dei loro familiari e da altre persone che facevano parte di una grande setta satanica che operava secondo loro nella provincia di Modena e tra la provincia di Modena e la provincia di Mantua ed è la storia di come questi 16 bambini sono stati allontanati senza che ci fosse un reale motivo nel senso che non avevano mai parlato di abusi non avevano riportato segni strani a scuola o fuori da casa però su una base di una serie di sospetti che poi nel podcast nel libro nella serie si spiegano questi bambini erano poi stati allontanati dalle loro famiglie all'improvviso e dopo diverso tempo avevano accusato le loro famiglie di all'inizio abusi domestici e poi via via progressivamente i loro racconti si erano fatti sempre più drammatici parlavano di rituali nei cimiteri sacrifici umani eccetera eccetera e questo in un certo senso si è rivelato poi essere insomma sono rivelate accuse che non hanno sono sono mai state sostanziate da prove reali da prove concrete e quindi ovviamente c'è il forte sospetto che poi c'è stato confermato da parte di alcuni di questi bambini quando sono diventati grandi e che abbiamo rintracciato che c'erano stati delle pressioni da parte degli psicologi da parte delle dei assenti sociali per accusare le famiglie perché queste queste persone poi quanto pare questi questi professionisti sarebbero stati convinti appunto avrebbero trasferito le loro convinzioni loro paura questi bambini e che hanno poi sostanzialmente ripetuto quello che loro dicevano loro o loro gli suggerivano e tra l'altro come racconti tu sia nel podcast ma anche nel libro ma anche nella docuzione che è uscita con prime tra l'altro è un fenomeno che è avvenuto anche nel mondo ci sono stati dei fenomeni anche molto simili sì sì ci sono stati fenomeni molto simili negli Stati Uniti nell'inizio degli anni 80 che hanno portato un po una cultura del della paura del panico del panico satanista del della paura dei sette di pedofili che poi la maggior parte delle volte si dimostravano paure infondate non perché non esista la pedofilia anzi assolutamente esiste ma molto spesso queste questi timori si basavano più su delle paure irrazionali o su delle credenze popolari o su una serie di voci che però non poi non avevano nessun tipo di riscontro e quindi erano le paure di genitori o di psicologi che venivano sostanzialmente come dire passate ai bambini che poi le ripetevano e quindi confermavano secondo loro quel secondo gli adulti quello che loro credevano e ha portato sia negli Stati Uniti poi in Inghilterra ma anche in Francia diversi casi molto molto seri ci sono stati tanti tante condanne tante persone finite in carcere conseltenze che poi magari sono state ribaltate ribaltate anni dopo ma in generale si parla di un spesso in questi casi molto spesso la maggior parte delle volte si parla di casi di allucinazione collettiva o comunque di psicosi collettiva o di suggestioni o di o di suggestioni di false memorie ok per tornare sempre all'inchiesta che hai fatto di veleno ci sono stati degli sviluppi poi nel corso degli anni che hanno portato in qualche modo a a darvi ragione in qualche modo a dimostrare questa cosa qui ma allora la magistratura non ha non ha più voluto indagare dopo il la magistratura modenese su questo caso e poi successivamente la corte d'appello di ancona quando uno dei una delle persone che è stata condannata federico scotta ha chiesto una revisione del processo perché c'erano appunto questi nuovi testimoni questi testimoni che ritrattavano sostanzialmente le accuse nei suoi confronti quindi da quel punto di vista da quel punto di vista la giustizia è ferma però questa storia è servita l'uscita dell'inchiesta di veleno è servita agli inquirenti di Bibiano mentre svolgevano le indagini a connettere dei puntini e a trovare diciamo un filo rosso che collegava queste due vicende nel centro studi Anseli Gretel che era lo centro studi di Torino di cui facevano parte le psicologhe consulenti del giudice per le indagini preliminari nella vicenda veleno e che vent'anni dopo poi ritroveremo nella vicenda di Bibiano sempre lo stesso centro di Torino che per anni aveva fatto formazione aveva formato psicologi assistenti sociali dove appunto c'era questo Claudio Foti che è stato condannato di recente in primo in primo grado a quattro anni di carcere e che appunto secondo la magistratura di Reggio induceva falsi ricordi nei bambini li convinceva ad accusare i genitori di abusi sessuali mai avvenuti quindi ci sono senza tirare di mezzo alla magistratura ci sono stati anche dei ragazzi che dopo questo podcast qua sono comunque tornati si sono fatti un po' vedere se ci può parlare un caso se ce ne puoi parlare guardi beh sì per esempio un caso è il caso di una ragazza che io ho chiamato che nel podcast ho chiamato ehm Marta e di un'altra eh che ho chiamato ehm ehm caos non mi ricordo più ho passato del tempo e nel frattempo ho fatto duemila altri lavori ehm cioè so il suo nome vero ma eh comunque Marta e per esempio questa ragazza che eh la cui mamma era stata noturata dalla mamma da piccola e aveva la mamma si era buttata giù dal quinto piano per disperazione e e lei dopo tanti anni si è fatta avanti e ci ha raccontato che eh le era stato fatto credere che la mamma era una persona cattiva che si era suicidata perché era colpevole perché l'aveva portata nei cimiteri perché l'aveva fatta prostituire eccetera 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 e ci ha raccontato di grosse pressioni psicologiche che venivano fatte da lei e eh da parte di questa questa psicologa eh e poi altri eh altri due eh ragazzi Dario per esempio anche si è fatto avanti e ci ha raccontato che anche lui subiva delle pressioni aveva subito delle pressioni e poi un'altra ragazza ancora che era stata allontanata portata via da casa non è mai più tornata a casa non ha mai accusato i genitori ma non hanno mai mai comunque più fatto vedere i genitori se non in qualche sporadico incontro ehm presso servizi sociali e che eh ha subito anche lei dice queste forti pressioni psicologiche più psicologiche da parte della dottoressa Donati e da altri psicologhe ci sono stati degli sviluppi recenti ulteriori ti chiedo se no no al momento no al momento no eh si è formato un gruppo di genitori affidatari e di ragazzi eh adulti insomma di ex bambini eh che continuano ad affermare che è tutto vero che le storie sono vere che gli abusi erano veri che i cimiteri erano veri e tutto quanto ma insomma questo è non è successo nient'altro sostanzialmente non che io sappia anche perché poi sai non è che non è non è detto che tutti vogliono parlare con me però eh c'è stata sicuramente molta più consapevolezza eh per quello che riguarda questo tema secondo me in Italia dopo dopo questa vicenda cioè c'è un argomento che è diventato prima era un argomento un po' di nicchia poi adesso con anche con la vicenda Bibiano è diventato un argomento mainstream. Ok guarda io direi che c'è hai detto tutto in pochissimo tempo e ti ringrazio un sacco. Ma grazie a te. Ok per finire per chi volesse approfondire la vicenda e per chi volesse contattarti approfondire un po' più questa storia dove lo può fare? Può ascoltare veleno su tutte le piattaforme da Spotify a Apple Music, comprare il libro, lo trova su Inaudi, è stato pubblicato da Inaudi oppure guardare la serie su Amazon Prime, insomma documentarsi. Ok, io ti ringrazio nuovamente. Grazie a te. Grazie di tutto, Paolo. Grazie a te. Ciao Matteo. Ciao Paolo, grazie. Ciao caro, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.